Avete mai pensato alla insidiosa preoccupazione di vedere i propri oggetti nella sabbia, sporchi, inutilizzabili perché sono caduti dal tavolino dell'ombrellone? O alla scomoda sensazione di doversi alzare per pulire il ciuccio del bambino, per recuperare il biberon, bicchieri di plastica, chiavi? Il gestore attento al miglioramento della vita in spiaggia e al benessere dei suoi clienti oggi ha scelto Estro per risolvere il disagio. Estro elimina il problema dei piattini, bottigliette e bicchieri di plastica. Consente di tenere qualsiasi tipo di oggetti personali che ora potete posare senza preoccupazioni. Estro è un motore di business per tutti, per lo stabilimento balneare che può qualificare il servizio in spiaggia, per l'impresa del territorio che ha l'opportunità di rafforzare la visibilità attraverso lo sfruttamento pubblicitario dei banner. Per gli enti promotori del turismo è opportunità di farsi portatori di innovazione!